Abbiamo i primi prudenti Sono concentrati Guardano la faccia Il pubblico guarda alle espressioni idioti che questi giochneri fanno quando giocano con 5 palline E qui a questo punto le spalle cominciano a bruciare un attimino Qua dietro Ciccio, tienilo, 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 tienilo Ciccio, mi tenute, mi tenute Tutti guardate alla faccia di Ori qua Guardano le sue espressioni bellissime Il ragazzo giovane sta andando forte Sta andando fortissimo Sbucchi a chiave, cerca di fare i figli con gli occhiali da sole E adesso sta ridendo Ma si concentra Si legge le labbra e si va avanti La abbiamo Lorenzo andando forte Prima Lorenzo era Mr Bucket Ma adesso è professionista così Diventa come Lorenzo sono Ma ci piace sempre Mr Bucket E ricordo sempre come Mr Bucket E sa come recuperare questo ragazzo Guardano E' un showman E' un showman a 100% Noi abbiamo due minuti Ci sta prendendo due minuti Due minuti Aveva due minuti Fanno il applauso di Gary Tabletto Vedo due minuti West 꼭 West gotta go sono rimasti circa dieci in adesso che c'è? 9, 9 in them 10 jugglers 9 jugglers abbiamo un jugglero piccolissimo qua vedi come va? occhiali dal sole, fa figo già ha vinto l'anno scorso questo ragazzo qua e così non bombo le palle adesso dicevo una foto sei sotto dal occhio di bue adesso proprio e lui solo sorride sorride solo si gira infatti quanti abbiamo? abbiamo uno, due, tre 5, 5, 4 se Ori Roth è un mando forte Ori Roth è so much strong he has not moved his feet once non lo spostate un piede tutto questo tempo wow abbiamo un scorso chute qua the underdog the underdog here in the behind is still going who is he? where does he come from? oh no siamo tre siamo gli ultimi tre ogni ordine questi tre finci un premio ma quale premio vincono? we've been to 4 minutes 4 minuti 4 minuti e c'è il pubblico pensando questi ragazzi veramente passano tutto questo tempo a fare solo quello è vero è vero siamo un gruppo di sfigati è che cosa si lui è della Repubblica Ceca se non lo deve sapere sono un argentino e un israeliano e l'istrano internazionale qua veramente l'olimpiadi internazionale facciamo i giochi facciamo fare cosa mi è fice ragazzi una certa ora ma no sono rimasti Ori da Israele e un ragazzino qua la Repubblica Ceca ma ci vede benissimo questo qua dai sono più di 5 minuti che stanno giocando con 5 palline ma scusa ma tu una casa non ce l'hai qui stanno giocando qui stanno giocando in inglese che stanno giocando abbiamo il ragazino da Cech Repubblica e abbiamo Orivath da Israele Orivath wins a prize per la migliore per il migliore durante la migliore di fai e il migliore e la migliore e la migliore Grazie. C'è un cecchino nel pubblico, per favore. Un franzo tiratore, per favore. Now, ci abbiamo le due partecipate di girare. Per 12 partecipanti, Ori e Gagù, you must start turning either to your left or to your right. And turn in circles. And turn in circles. And turn in circles. And turn in circles. Keep turning. Don't stop, keep turning. Maybe there's a favor of side swap. Are they good enough? Side swap, gnocchi. Stop 3 and stand on one foot. Stand on one foot. Stand on one foot. I would say get down on your knees On your knees On your knees Okay stand up Stand up Stand up Stand up You're right Well they do not drop And now your favorite size swap Wow five Now I understand why you have a pillow Good price Now I understand why you have a pillow